segreteria guarda su ciao ragazzi bentornati su blend game e bentornati su un altro episodio di blair witch noi andiamo avanti non perdiamoci spiegazione andiamo avanti felicissimi come al solito dopo che il nostro simpatico amichetto dalla pelle altrui ci ha guidato attraverso la nebbia mi piace neanche a me so what is it another body no no ma vuoi che mi sparo? vuoi che muoro? ammazza il cane ma vaffanculo ma mamma ma non tirarla ma che cottesta di cazzo imbecille no 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 come si scendeli maledetto imbecille ma perché queste cose? come si fa? dove deve andare? di qua per forza ok maledetto buongiorno maledetto maledetto buongiorno 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 Ok. Qualche novità? Telefono. Ma vaffanculo! Vabbè che poi, comunque, è un'allucinazione, però... Però è giorno. Però è giorno. Però c'è la luce. Però c'è anche... Cosa c'entra il cerco? Cos'è sta roba? Ragazzi... No. Troia. Chi è questo? Fa indovinare. Paul. No, non si gira neanche il mano. Guarda. Un altro. Chi è questo? Michael. No, non c'ha nome. Perfetto. Tutti sconosciuti. Ah, ragazzi. Spero di fare il male. Dove sono? No! Ma... Eccolo lì. Messaggi. Sì, dai ancora, mi raccomando, dammene un'altra. Segreteria. Guarda su. Cosa? 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 Dio, p***o! Cielo. Andare. Sono completamente al buio, ragazzi. Non so neanche se mi devo muovere. Ok, se guardo in alto funziona. Ma che mi devo far fuori? Allora, se mi chiami così, anche no. Grazie, eh. Ma vai affan... No, no, no. A... No, tu non hai fatto un cazzo. Dov'è che devo andare qui indietro? Da nessuna parte, probabilmente. Ecco, ancora il telefono. Jess? Io ero in... Jess? Non l'ho capita la chiamata. Il segnale è assente. No! No! Non mi lasci! Mi uccidami già! Pidifullo! Quindi ancora stai sfruttando? Cane! Spaccolo! Ma perché non gli spaccolo? Non è un trapetto. E qui? E' quello che sei risposto? Stupido, piccolo, potrei ripetare il tuo cuore e portare il tuo pezzo. E poi, perché non ti? Ha, ha, hai, ti devi lavorare per questo. No! 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 Ma raga, il cane è morto. Un altro deal. Bene ragazzi Io direi che per oggi la puntata Può terminare qui La dosi di adrenalina Mi è bastata Mi raccomando Ora io non vorrei dire niente di particolare Ma Se non volete Che Carter venga anche stavolta A casa vostra Vi rapisca e vi riporti al campeggio Che avete da sempre odiato Iscrivetevi al canale Condividete il video e mettete mi piace Un saluto Da Blade in the Game Grazie a tutti Grazie a tutti